Dalle montagne alle coste, dai laghi alla laguna, dalle pietre dei borghi antichi ai marmi sontuosi delle città d'arte. Tutto questo è la Regione Veneto, tra leggenda e mistero. Le storie fantastiche, tramandate di padre in figlio, prendono vita in una manifestazione che fonda le sue radici nei miti e nelle leggende di cui la Regione Veneto fa da scenario, e i Veneti i principali attori, leggende raccontate in quel particolare momento dell'anno, dalla notte di ogni santi e per tutto il mese di novembre, in cui streghe e folletti, fate e fantasmi vengono rievocati nell'immaginazione. Fare cultura con ciò che nasce dalla terra stessa, è questo il principio di base da cui è nato il Festival del Mistero, spinto dai suoi ideatori verso l'obiettivo primario di tramandare nel tempo l'identità veneta, attraverso una manifestazione dalla straordinaria valenza sociale.